bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia finalmente dopo tutta la season è arrivato deadpool lo so che alcune sfide erano un pochettino bagate o addirittura non le vedevate ma dovrebbero avere fixato tutto e quindi potremmo ottenere la skin di deadpool finalmente nel nostro armadietto nei video di oggi vedremo però delle cose incredibili per quanto riguarda midas e la sua stanza segreta ma prima volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro aiuto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica del video news ma ci sono tante altre cose interessanti di cui voglio farvi vedere di cui voglio informarvi anche un nuovo fungo si ragazzi un video anzi più video che vi faccio vedere di questo fungo molto molto strano che non si sa bene a cosa serva cercheremo di capirlo insieme ma prima la domandina dai raga devo farvela ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto e la domanda non poteva che essere questa ma cosa ne pensi della skin di deadpool come fatta ti piace non ti piace ma vogliamo parlare delle emoji che sono arrivate nello shop dai raga hanno messo la vespa hanno messo la vespa meravigliosa il deltaplano veramente spettacolare secondo me anche i picconi hanno un loro perché ditemi cosa ne pensate della skin di deadpool qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande i bando alle ciance andiamo subito a vedere un post che ha pubblicato ninja che è molto interessante dice ho ricominciato a giocare con il controller sul computer per la seconda volta in due giorni ho fatto delle delle competizioni ho fatto delle competizioni nei alcuni giochi in alcune partite e a livelli abbastanza alti e devo e dice un bot controller e mouse and keyboard e vede la differenza in poche parole che dice non potete dirmi al cento per cento che è stata tolta l'hame assist perché oppure la linear setting perché effettivamente si nota qui apro un piccolo un piccolo quesito visto che ne parliamo spesso e volentieri durante la live io sono sempre convinto che nonostante abbiano tolto la legacy dal controller c'è sempre tantissima differenza per quello che riguarda mk matchato su pc e pad matchato su pc lo notiamo lo si vede subito e secondo me dovrebbero ancora darci un pochettino darsi un pochettino da fare perché sicuramente possono fare di meglio basterebbe semplicemente un matchmaking separato da pc per chi usa mk o pad ma anche il ninja la pensa in questo modo ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento di oggi ci sono stati dei problemi eh sì ragazzi ieri ho fatto il video per prendere deadpool molto molto semplice ma molti non sono riusciti a prenderlo però dovrebbe essere stato finalmente fixato tutto e quindi dovete andare nell'isoletta vicino allo yacht travestirvi e poi andare a prendere nella lobby le due pistole la prima la trovate dove c'è la gente miascolo la seconda la trovate dove c'è il tavolo delle sfide proprio sotto spero che lo abbiano fixato e che sia lì per tutti per chi non l'avesse visto però ragazzi guardate che figata commentiamo un attimo al volo il momento in cui è stato modificato lo shop come vedete c'è deadpool che appunto con la sua animazione toglie lo shop vecchio sono le 14 di ieri e va appunto in maniera molto divertente a sostituirlo con i suoi nuovi outfit veramente meravigliosi c'è il blocco anche da 1700 che dava deltaplano piccone e le due emoji tanta tanta roba perché a me la cosa che mi fa veramente impazzire di deadpool è che è molto ironico ed è veramente un grande ma andiamo avanti ragazzi perché nello yacht che sapete ovviamente è stato preso in questo momento da deadpool stesso che lo ha trasformato nel suo parco divertimenti personale è stato sfrattato il miascolo quindi dove sarà andato questo miascolo sembrerebbe che lo potremo trovare nella casa nella fabbrica di scatole il qua potrebbe essere una cosa interessante perché c'è stata la sfida in questa settimana che ci diceva proprio di andare in una scatola in una scatola dentro la fabbrica di scatole potrebbe essere appunto semplicemente una cosa che hanno fatto per farci capire dove potremmo trovare il nostro miascolo cercherò di stare attento e di vedere un pochettino se per caso ci saranno degli aggiornamenti ma andiamo avanti ragazzi perché guardate che cavolo c'è qua è stato inserito nelle ultime ore nei file di gioco uno strano fungo è proprio un fungo come quelli che vediamo in mappa quelli speciali e quelli normali la figata però è che questo fungo ha delle animazioni e se andiamo a vedere abbiamo delle animazioni che si chiamano get happy awake orphaned sleep ma ce ne sono altre ad esempio react said run run stop sleep shake wake up dance per farvi capire un pochettino quello di cui vi sto parlando vi faccio vedere ancora uno spezzone video ragazzi guardate questo cacchio di fungazzo che sinceramente non si capisce bene che cavolo di ruolo possa avere nella storyline di fortnite anche perché in questo modo in questo spezzone se la stava flossando pesantemente ma se andiamo a vederlo qua invece è un pochettino più triste e è comunque molto molto buffo potrebbe essere magari qualcosa di relativo insomma anche alle sfide che abbiamo visto quelle degli orsi e quelle degli gnomi non lo sappiamo cercherò di scoprire qualcosa in più e ovviamente lo farò scoprire anche a voi ma andiamo avanti ragazzi perché questo ne parleremo più avanti visto che il tempo purtroppo non è dalla nostra parte voglio farvi vedere delle fotografie scattate durante lo spezzone di midas che cos'è lo spezzone di midas per chi non avesse visto il mio video ieri ve lo faccio rivedere ragazzi è questo qua praticamente il trailer di midas che appunto entra nella sua stanza segreta e come vedete ha in mano l'elmo del cavaliere nero ma la cosa più sconcertante è che se guardiamo proprio nel muro come si sta per far vedere questa questo spezzone di trailer appunto notiamo tantissimi altri elmi il che potrebbe voler dire che questi elmi sono stati direttamente presi da midas killando appunto dei vari personaggi che già conosciamo il cavaliere nero il durburger c'è anche il rhino c'è l'assassino artico c'è l'alpino staremo a vedere le cose interessanti invece sono proprio provenienti da questi fotogrammi e come vedete vicino alla statua d'oro di mida c'è il piccone di oro il che potrebbe confermare nuovamente il discorso che oro sia mida oppure mida sia oro ma se andiamo avanti a vedere ci sono anche dei quadri sempre in questa stanza che ritraggono mida stesso ritraggono il miascolo invece dietro di me c'è semplicemente una skin normale niente di particolare ma questo è uno dei pezzi forti perché vi avevo già fatto vedere un paio di giorni fa il doomsday weapon praticamente che cos'è è quella roba lì piccolina che si vede sopra il tavolo dei degli agenti il doomsday praticamente vuol dire giorno del giudizio ed è l'evento che caratterizzerà questa season 2 questo capitolo 2 questa season 2 del capitolo 2 lo abbiamo visto in maniera sproporzionata mentre qua potrebbe essere in realtà come verrà mostrato pubblicamente ma se andiamo a vedere bene ragazzi c'è anche una cosa molto particolare questa è la scrivania di mida stesso e quello che ci cattura ovviamente l'attenzione è proprio la foto qua sotto di questa signora che potrebbe essere di questa ragazza che in realtà sappiamo si chiama the engineer ed ecco qua che la vediamo in maniera molto più definita potrebbe essere quasi certamente la compagna la fidanzata di midas chiudo facendovi vedere questa nuova meravigliosa immagine che invece potrebbe andare a mostrare la vera e propria arma del giorno del giudizio nella sua forma intera quella che vi ho fatto vedere prima dovrebbe essere il modellino sulla tavola degli agenti mentre questa sarà la vera e propria arma tanta roba ragazzi per questa season 2 si sta cominciando a muovere un pochettino in maniera anche un po preoccupante la storyline io anche per oggi le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi ai canali io sono in live su twitch ciao ciao